Carissime, oggi ultima giornata della nostra maratona per la festa della mamma. Siccome il venerdì io faccio sempre un tutorial ad uncinetto, ho pensato di fare un abito a uncinetto tutto scollato, sexy, per questo profumino, questa bottiglia di profumo. Allora ragazze, io ho preso un cotone numero 5, eccolo qui, è un uncinetto numero 3, diciamo un po' più grande di quello che io di solito uso per questo filato, perché così facciamo prima, insomma è un vestitino, noi lo andiamo a rivestire e poi lo impacchettiamo, possiamo farlo pure su un'acqua profumata, un bagno schiuma, adesso io ho questo e vado a fare il vestito su questa tipologia di bottiglia. Allora, iniziamo subito con 25 catenelle, perché vado a fare un cerchio, no, perché io il mio vestito lo blocco intorno al collo, poi faccio come una specie di pettorina e dietro lo lascio scollato e sotto gli faccio tutta la gonnellina, vedete come ci rifa la prima. Allora, 25 catenelle e una, la stringo e non la conto, una, due, tre, quattro, cinque, sei, fino ad arrivare a 25 ragazze. Lo chiudo in cerchio mettendo le catenelle dritte. Ok? E adesso su ogni catenella io faccio un punto basso, perciò 25 punti bassi. ecco qui, guardate, vedete noi abbiamo fatto la collaretta del nostro vestito. Adesso noi andiamo a fare la pettorina del vestito e in questo modo, aspettate un attimo, facciamo cinque punti alti, così. Allora, uno, due, tre, simboleggiano un punto alto e poi vicino ne andiamo a fare gli altri rimanenti nove, due, tre, quattro, blocchiamoci il filo, cinque, vedete che viene un piccolo bijou, due, quattro, cinque, due, sei, sette, otto, nove e dieci. Giriamo e facciamo un'altra fila, sempre i dieci punti alti. Perciò uno li contiamo. Perché è facile sbagliare, eh? Ciò devono essere sempre i nostri dieci punti alti. Andiamo a fare la pettorina di questo vestito. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Giriamo ancora perché la pettina è ancora troppo piccola e ne facciamo un altro giro. Altri dieci. Ok, lo vedete? Guardate, tre giri, noi abbiamo fatto la pettina. Potremmo fare pure un altro giro, un po' più lungo, prima di mettere la gonna. Penso di farla. Adesso lo andiamo a fare subito, guardate, perché forse viene più carino. Facciamo un altro giro dei nostri dieci punti alti. Andiamo. A questo punto, scusate, devo avvicinare perché sennò non si vede bene. Noi andiamo a creare la nostra connellina da questa pettina, facendo quindici catenelle. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici e quindici. Vediamo. La misuriamo così e vediamo se mi arriva. Assolutamente non mi arriva perché, vedete, devo arrivare da quest'altra parte. Perciò, come dico io, perciò, qua ce ne vogliono altri dieci. E così dovete fare voi. Prendete la vostra bottiglia di qualsiasi cosa avete e fate la vostra misurazione. Quindi ci sono pochissime, ne metto altri dieci. Uno, due, sono venticinque, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Questa c'è un bel giro vita, sta bottiglia. Volevo fare una battuta come me, come il mio oramai. Ok, vediamo. Ecco, adesso ci siamo perché un pochettino tiriamo, vedete? e chiudiamo da quest'altro lato. Così. Se è un lavoretto che con un quarto d'ora lo fate e rendete il vostro profumo bellissimo. punto basso, quello che vi pare, un mezzo punto, vi bloccate. Questa è la gonna. Noi come la andiamo a fare la gonna? La andiamo a fare tutte catenelle. Semplice, semplice, semplice. La giriamo perché questa è la parte così, no? Poi questa è la gonna. Intorno alla gonna noi ci facciamo tutte balzette, veloci, veloci, veloci. Allora adesso vi faccio vedere. Uno, due, tre, quattro, cinque. Lasciamo due punti di base. Aspettate qua, fatemi girare. E un punto basso. Facciamo la rete. Uno, due, tre, quattro, cinque. Lasciamo due punti di base. Un punto basso. Uno, due, tre, quattro, cinque. Per tutto il nostro, la nostra gonna. Ok, lo vedete? Io sto girando tutto in tondo, eh? Pure davanti. Adesso vado a fare la mia, la mia balzetta con le catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque. La è giù. Uno, due, tre, quattro, cinque. E giù. Andiamo direttamente. Vedete? Questa è la nostra centrale dell'archetto che abbiamo fatto prima. Ci mettiamo qui con un punto basso. E giriamo. Sempre con le nostre cinque catenelle. Un punto basso. Centralmente. Uno, due, tre, quattro, cinque. E andiamo. Proseguo. Ok, ragazzi. Vedete? Sto al terzo giro. Io adesso proseguo fino ad arrivare ai piedi della mia bottiglia per fargli un abito da sera. Vedete? Deve arrivare a terra. Perciò a terra io dico che altri tre giri ce li vogliono. Andiamo. Ecco qui, vedete? Sta toccando terra. Adesso io non proseguo con l'uncinetto perché ci vado a fare come una sottogonna di stoffa sotto da mettere e ce la incolliamo tranquillamente. Ok, prendo la stoffa e la arricciamo. Presso questa stoffetta andiamo a prendere la circonferenza del nostro abitino e raddoppiamo la stoffa della nostra sottogonna. Perciò se questo è 10, 10, 20 noi andiamo a fare 40 cm di stoffa per la lunghezza della gonna più un ditino. Ok? Così. Vendo questa e in fondo, vediamo, questa ha già 40 cm G è, ci vado ad incollare oppure a cucire a macchina questo mio valentienne. Ecco, un merlettino in fondo, vedete? Per rifinirlo. Tagliato, adesso io vado ad incollare il mio merlettino. Così lo rifinisco tutto quanto, il mio vestito viene più caruccio. Ok? Ok, andiamo ad arricciare la nostra voellina con dei punti proprio veloci e la cuciamo sul nostro abitino a uncinetto. Ok, una volta che noi abbiamo arricciato, prima di chiuderlo, prendiamo la misura della nostra arricciatura. Se il mio qui ho arricciato troppo, perciò devo diminuire la mia arricciatura. Vediamo. Non la facciamo troppo tirata perché se la maglia, cioè l'uncinetto, quando noi ce lo mettiamo è morbido, capite? Mentre la stoffa è più rigida, perciò allentiamo, allentiamo perché sennò è brutto, non ci passa l'abito. Rimisuriamo proprio così, un altro po' allentiamo. Questo è il lavoretto che dobbiamo fare. Adesso penso che vada bene. Blocchiamo il filo dell'arricciatura, qui, vedete? con un punto veloce, così. Raddoppiamo il nostro tessuto in questo modo e lo cuciamo con un punto veloce, con un punto indietro. Così. fino alla fine, ribattiamo e andiamo o con la colla o con la che filo a bloccare la nostra sottogonna. ce la blocchiamo magari con le spille, intanto. E poi anche con aghe filo, un attimo, che ci si vuole. Così gestiamo meglio la situazione, ok? guardate come sta venendo carino. Dai, mettiamo le spille, cuciamo. Ago e nastrino piccolissimo, da mezzo centimetro. Noi intramezziamo così, vedete? Il nostro nastro. Il nostro caro nastro. Ce l'avevo anche più piccolo. Non lo ritrovo. poi vediamo, prendiamo se basta, andiamo indietro, lo facciamo pure da quest'altro lato, così. andiamo sopra, così uno o no. e l'ultimo. e l'ultimo. guardate che voglio andare direttamente qui sul centro. perché ci andrò a mettere un fiocchetto e via discorrendo. lo prendo. Ci ho ripensato, ragazzi. Eheh, perché poi uno... io sto improvvisando, eh. Allora, andiamo di lato così. E scendiamo in basso sul girovita, qui. e rifiniamo il girovita con il fiocco. Viene più raffinato. Mettiamo qui in basso. Lo lasciamo qui. E poi l'altro lo vado a girare, salendo qui. Così stringiamo pure il punto vita e non se ne scende più di tanto. Perché vedete, questa è la bottiglietta. fa V. Se trovate una bottiglietta che è arrotondata, siete più facilitati. Io mi è piaciuto il colore. E anche la gradiazione del profumo. Perciò mettiamo uno bello lungo perché non si sa mai. Non ci può bastare. Lo stringiamo sul nostro profumino. Ecco qui. Vedete? Con calma. Questo c'ho. Aspettate, aspettate. Lo sto facendo sulla bottiglietta perché così mi regolo meglio. Ok, avete capito. Ritorno sull'altro fiocco. Ok, fiocchetto. Colla. Di lato. Mi ha fatto girare il fiocco. E fiocco. Mettiamoci un po' di questi fiorellini. un po' di strassetti. Un po' di strassetti. No, no. Mettiamo uno sbrilluccico. Il vestito per il nostro profumo è fatto. Ok, adesso lo ricontrollo, vedete dietro così, levo tutta la plastica sotto e ve la faccio vedere. Ci possiamo mettere pure qualcosa sotto, adesso vedo. Eccolo, pronto il vestitino, guardate, fatto in 20 minuti, guardate quando è grazioso. Lo potete mettere, lo potete fare su un bagno schiuma, su un'acqua profumata, una crema per le mani, sapete quelle con il dispenser, no? Deve essere una cosa dritta, in modo che voi ci potete lavorare bene, perché un tubicino è una cosa un po' più... poi il tubicino non dà quell'idea dell'abitino. Ragazzi, che dire, spero che questi miei tutorial per la festa della mamma vi siano piaciuti, poi adesso ci salutiamo e ci rivediamo la prossima settimana, ricominceremo a fare tante bellissime cose insieme. Già ho pensato a altri progetti che poi vi farò vedere man mano. Un abbraccio grande grande a tutte le mamme, a tutte le nonne, a tutte le zie che sono mamme, zie e nonne. E passate una bella giornata insieme ai vostri cari, ai vostri figli, nipoti e via discorrendo, perché tanto, ragazzi, questa è la cosa più importante, la famiglia e gli amici. Un abbraccio forte forte, mettete mi piace, condividete, fate la pubblicità e di questo vi ringrazio, iscrivetevi numerosi e ci vediamo. Ciao!